e l'euro deputato molisano Aldo Patriciello lascia Forza Italia una decisione sofferta ma oramai necessaria ipotesi, soppressione, autonomia del Don Giulio, testa di Venafro il sindaco Ricci, una scelta sbagliata dal 2 gennaio sarà necessario un biglietto da 10 euro per poter visitare Altilia i turisti sono d'accordo a Isernia Palazzo Orlando sarà restaurato dal PNRR arrivano 2 milioni di euro per la riqualificazione dello storico edificio l'anniversario dell'autonomia regionale attraverso le immagini storiche di TV Molise con l'arrivo del presidente Leone a Isernia nel 1963 Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 e 30 di TV Molise andiamo in onda sul canale 12 ospitati dai colleghi abruzzesi della QTV una sinergia che sta facendo molto bene alla nostra emittente in termini di qualità e di quantità grazie quindi ai colleghi di la QTV dell'Aquila ma cominciamo il telegiornale con la notizia del giorno una notizia che ha diciamo sconvolto il quadro politico nazionale perché si è spostato il secondo portatore di voti di Forza Italia ha lasciato il partito portatore di voti alle europee del 2019 Aldo Patricello secondo solo a Berlusconi ha lasciato Forza Italia l'annuncio questa mattina con un post su Facebook che come dicevo ha sconvolto la politica nazionale il servizio ho comunicato in queste ore al presidente Tajani la mia decisione di lasciare Forza Italia una decisione sofferta travagliata ma che alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale è quanto mai irrevocabile e non più differibile è Aldo Patricello che lo scrive sulla sua pagina Facebook un post che ha dato uno scossone al quadro politico nazionale non dimentichiamo che Patricello alle ultime europee fu secondo solo a Berlusconi per numero di preferenze e quindi si tratta di un politico al centro del dibattito italiano in vista delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno sarò eternamente grato al presidente Berlusconi e alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che mi hanno testimoniato nei 16 anni di cammino politico da me vissuto tra PDL e Forza Italia continua Patricello ma ora è tempo di fermarsi e avviare una riflessione insieme ai tanti amministratori che da Teramo a Reggio Calabria fanno riferimento al sottoscritto e ai quali mi lega a prescindere dai partiti di riferimento ha concluso l'eurodeputato il valore dell'amicizia la sola stella polare che guida il mio agire politico in sostanza Aldo Patricello chiude i suoi rapporti con Forza Italia ma non dice niente sul suo futuro certo è che sarà candidato alle europee nel centro-sud non c'è nessuno con il suo consenso elettorale ma con quale squadra si schiererà e ancora presto per dirlo lo deciderà dopo aver ascoltato i suoi amici e i tanti amministratori che gli sono vicini da Teramo a Reggio Calabria e non sono certamente pochi ebbene dopo aver cominciato il nostro telegiornale con una notizia di cui tutto il mondo politico nazionale parla passiamo invece all'anniversario storico l'anniversario del sessantesimo anno di esistenza della Regione Molise un errore un'occasione mancata oppure bisogna continuare a sperare in questa autonomia regionale che purtroppo negli ultimi tempi ci ha regalato tante delusioni la scheda storica con le immagini storiche di TVI Molise nel servizio di Antonio Leone 1963 una data che ha segnato per sempre la storia del Molise era il 27 dicembre quando il Parlamento approvava la legge costituzionale istitutiva di una regione territorialmente e amministrativamente autonoma la ventesima regione d'Italia la prima creata dalla separazione di due realtà territoriali l'Abruzzo e per l'appunto il Molise un traguardo che rendeva finalmente giustizia a quell'anelito antico delle genti molisane così parlava all'onorevole La Penna che insieme ad altri esponenti della classe politica di allora si sono battuti per l'istituzione della regione dietro di loro una società civile convinta che il progresso dipendesse da quell'autonomia che dagli a poco avrebbe portato uffici servizi e benessere un lungo percorso preparatorio anticipato quel fatidico 27 dicembre una delle tappe fondamentali l'arrivo qualche mese prima a Esernia dell'allora presidente del consiglio Giovanni Leone futuro presidente della Repubblica Leone venne a Esernia per commemorare le vittime del bombardamento che distrusse la città nel 1943 ma a margine di quella commovente cerimonia poté toccare con mano le istanze provenienti da un intero popolo c'era da fare una provincia quella di Esernia ma prima ancora una regione il presidente Leone fece ritorno a Roma con le idee chiare bisognava realizzare quello che all'indomani del secondo conflitto mondiale già avevano previsto i padri costituenti l'autonomia di un territorio e di un popolo con una cultura millenaria ma l'istituzione della regione molise assume un significato storico di più ampia portata il 1963 denominato Annus Horribilis l'omicidio Kennedy il disastro del Wayon dinanzi a un'Italia e lacrime la riscossa di una piccola realtà che con le sue forze dimostrava che ancora nonostante tutto si poteva sperare in un futuro migliore da allora quel sentimento di speranza è andato man mano affievolendosi oggi la regione molise deve fare conti con mille problemi vecchi e nuovi primo tra tutti lo spopolamento per questo motivo molti pensano che l'esperimento molise sia fallito meglio tornare indietro meglio tornare con l'Abruzzo fa un certo effetto vedere le immagini di 60 anni fa quelle due ali di folla che accolgono il presidente Leone sono un'istantanea di un popolo che credeva in una ridascita e che oggi non c'è più e allora tanti auguri molise tanti auguri molisani con la speranza che qualcuno vedendo queste immagini ricordi da dove siamo partiti e soprattutto dove non siamo arrivati avete visto le immagini di TV Molise il presidente Leone vicino al vesco dell'epoca di Iserne immagini che sono solo le nostre alle 13.30 ricordatevi il primo appuntamento con l'informazione regionale il primo appuntamento è quello di TV Molise 13.30 il telegiornale del giorno partiamo con la cronaca è stato accompagnato a casa dagli agenti della questura di Termoli un anziano che si era sbarito e non riusciva a fare ritorno alla sua abitazione l'uomo è stato così riaffidato ai propri familiari il servizio di Christian Ciarlante non solo prevenzione dei reati e repressione di condotte illegali per le donne e gli uomini della squadra volante della questura di Termoli ma anche aiuto e soccorso alle persone più fragili martedì scorso una pattuglia durante il suo consueto giro di controllo ha notato un anziano di circa 80 anni che vagava per le vie del centro di Termoli in stato confusionale e non ricordava più dove fosse e soprattutto dove abitasse l'anziano è stato avvicinato e rassicurato dei poliziotti che dopo aver verificato quale fosse il suo indirizzo di residenza lo hanno accompagnato a casa e riaffidato alle cure dei propri familiari e ora andiamo sul mondo della scuola con una decisione quella del Consiglio regionale che raggruppa le scuole del Molise e taglia il Don Giulio Testa di Venafro una scelta veramente sbagliata che sta sollevando un polverone di polemiche a Venafro una scelta a frutto della mancata conoscenza del territorio da parte dell'ufficio scolastico regionale così il sindaco Ricci commenta la proposta di soppressione dell'autonomia scolastica del Don Giulio Testa ci racconta tutto Domenico Marzocchella Don Giulio Testa a partire dal prossimo anno scolastico questa scuola perderà la sua autonomia l'istituto comprensivo di Venafro è tra i tre destinati ad essere tagliati insieme alla Pilla di Campobasso e a un altro istituto comprensivo a Termoli il Testa nella delibera della quarta commissione di Palazzo da Immo sarà spacchettato tra le altre due realtà scolastiche sul territorio di Venafro l'Antonio Giordano e il Leopoldo Pilla al momento quella della quarta commissione regionale è solo una proposta una proposta che il sindaco Alfredo Ricci auspica che non vada avanti andare a toccare il Don Giulio Testa in questo momento credo che sia una scelta sbagliata tenuto conto delle linee guida che la stessa aggiunta regionale qualche settimana fa ha adottato oggi in maniera roccambolesca adotta delle decisioni differenti aggiungo che lo fa sulla base di un parere dell'ufficio scolastico regionale che ha dimostrato ancora una volta di non conoscere il territorio perché poi fa uno spezzatino del Don Giulio Testa in maniera del tutto scriteriata aggiungo che l'ufficio scolastico regionale dà un parere ma le decisioni sono politiche e quindi o si sta abdicando da parte della regione ad una funzione che per legge ha e questo credo che non sia condivisibile oppure ci si sta nascondendo dietro il parere dell'ufficio scolastico regionale per avallare qualche scelta che è prettamente politica ma politica nel senso di amici che qualcuno forse ha sul territorio e che invece non ha nessuna logica amministrativa io confido che il consiglio regionale che è fatto di persone sicuramente che possono in molti casi dimostrare una maggiore sensibilità rispetto a scelte amministrativamente corrette e non politicamente biasimevoli possa avere uno scatto assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni corrette che possano dare una prospettiva alla scuola del nostro territorio e della nostra regione fermo restando che chiaramente sui tagli siamo tutti contrari poi avremo modo anche di ragionare su come si è arrivati a questa proposta sugli errori commessi anche in conferenza dei sindaci e da parte della provincia di Sernia in cassa il sì dei turisti la decisione di introdurre un biglietto da 10 euro per poter accedere al parco archeologico di Altilia a Sepino finora a ingresso gratuito la misura sarà attivata a partire dal 2 gennaio ci racconta tutto Carla Marino a partire dal 2 gennaio per accedere al parco archeologico di Altilia a Sepinum sarà necessario pagare un biglietto dal costo di 10 euro l'ingresso rimarrà gratuito invece per bambini e ragazzi fino a 18 anni e sono previste altre agevolazioni è quanto comunicato dal direttore Enrico Rinaldi in questo modo come sottolineato proprio dal numero 1 della direzione regionale Musei del Molise non solo si avrà un riconoscimento del suo straordinario valore storico archeologico e culturale ma il parco si alenerà anche ai luoghi d'eccellenza che compongono il complesso sistema museale nazionale e si adeguerà agli standard europei consentendo di contribuire in parte al mantenimento del sito e al miglioramento dei servizi al pubblico una misura che ha suscitato dibattito in particolare per quanto riguarda l'importo del biglietto i turisti però non sembrano essere contrari l'ingresso sarà a pagamento secondo lei è una misura necessaria ovviamente per manutenzionare questo posto ci vogliono degli impegni economici quindi ovviamente gratis è più facile per tutti però magari con una quota si riesce ad aiutare a gestire la manutenzione e mantenerlo bello come è adesso penso che sia doveroso perché l'area merita è molto ben conservata è la testimonianza di un'epoca passata estremamente interessante quindi sì credo che sia corretto contribuire alla conservazione dei beni culturali penso che comunque per venire a ammirare queste bellezze è anche giusto dare un incentivo a chi deve mantenere questi siti e vanno incentivati così ma io ne penso che sicuramente in dei posti tipo Venezia come diceva mia moglie prima si paga da qui in avanti in poi per andare a vedere cose che comunque non necessitano un'occupazione comunque sia e poi diciamo io provengo dall'edilizia e quindi so che vuol dire occuparsi di una cosa del genere a cielo aperto e secondo me se ce ne vogliono di più è giusto anche che ce ne sia di più insomma ecco fino ad ora l'unico accesso a pagamento era quello al museo che si trova alle spalle del teatro per cui era previsto il versamento di 3 euro dal 2 gennaio in poi l'ingresso sarà comunque contemplato con il costo del ticket azione del comando dei carabinieri in collaborazione con le forze di polizia per fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti l'azione nel centro cittadino di Campobasso in particolare in Villa Flora e via Palombo due giovani sono stati accompagnati in caserma per accertamenti più approfonditi il servizio di Francesco Adamo molte le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte dei residenti delle zone centrali di Campobasso tutte tendenti a denunciare presenze sospette ed azioni ricollegabili allo spaccio di sostanze stupefacenti a novembre scorso una prima azione di carabiniere polizia portò al sequestro di modiche quantità di hashish ieri pomeriggio invece un'azione più estesa che ha portato carabiniere polizia ad un'azione congiunta partita con il controllo straordinario del territorio nel centro cittadino in particolare Villa Flora e Via Palombo le forze dell'ordine hanno circondato la zona e provveduto a fermare e identificare le persone presenti per lo più ragazzi quasi tutti extracomunitari regolari dopo questi controlli due giovani sono stati accompagnati in caserma per accertamenti più approfonditi i controlli si sono estesi un po' in tutto il centro storico segnale chiaro di una vicinanza al bisogno di sicurezza che la cittadinanza di Campobasso esprime sì il presidio del territorio resta questo il principale contrasto alla delinquenza che in questi ultimi mesi ha segnato la cronaca della città e delle contrade vicine con una serie infinita di furti che si sono attenuati proprio nel momento in cui la presenza ed i presidi delle forze dell'ordine si sono intensificati Agnone sospende l'erogazione dell'acqua dalla mezzanotte alle 6 del mattino col direttimo lì se lancia l'allarme sul razionamento nei mesi invernali chiedendo interventi urgenti e sostenibili per affrontare i cambiamenti climatici Cristian Ciarlante razionamento dell'acqua tanti cittadini potrebbero ritrovarsi con i rubinetti a secco in alcune fasce orarie è quello che sta accadendo ad Agnone dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Saia ha deciso di sospendere l'erogazione di acqua dalla mezzanotte alle 6 del mattino riportando alla luce l'annoso problema della gestione delle risorse idriche che il clima sia cambiato è ormai una realtà inconfutabile ma che anche a dicembre bisogna ricorrere al razionamento dell'acqua deve far riflettere ad affermarlo e col diretti molise quello della riduzione di disponibilità di acqua per uso sia agricolo che civile o industriale è un problema che va affrontato con la massima urgenza ed efficacia afferma il direttore regionale di col diretti molise Aniello Ascolese per questo col diretti chiede alla nuova classe dirigente regionale di mettere in campo interventi tempestivi ed efficaci per fronteggiare cambiamenti climatici ed assicurare un corretto ed efficace utilizzo delle risorse idriche a tutti i livelli non solo ristrutturazione ma anche riqualificazione per Palazzo Orlando grazie ai fondi del PNRR sono disponibili due milioni di euro per il restyling dell'antico Palazzo Storico di Isernia Carla Marino è chiuso ormai da diversi anni ma in un futuro non troppo lontano Palazzo Orlando tornerà ad essere a disposizione della cittadinanza con un bando del PNRR infatti saranno avviati i lavori per due milioni di euro è stata firmata la determina con cui si approva il progetto esecutivo il progetto prevede una ristrutturazione completa dell'edificio di Via De Gasperi che si concluderà con una rifunzionalizzazione e riqualificazione non solo della struttura ma anche delle aree prospicenti al termine dei lavori che dovrebbero essere conclusi entro il 31 marzo 2026 Palazzo Orlando dovrebbe essere destinato ad attività di carattere didattico educativo culturale e sociale in attesa del Via Libera la progettazione varata ora dal terzo settore municipale per le opere pubbliche manutenzione e viabilità nel mese di novembre si era già provveduto ad approvare i verbali della gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori alla quale avevano partecipato 14 aziende l'intervento è stato aggiudicato da un'impresa di Capriati a Volturno che ha fissato in 300 giorni la tempistica per l'ultimazione dei lavori gli interventi serviranno anche a rendere energeticamente autonomo l'edificio storico che sarà dotato di 50 pannelli fotovoltaici come da indicazioni della soprintendenza saranno eseguite opere apposite per far sì che l'impianto ad energia solare non possa essere visibile dalla strada e non pesare pertanto sull'aspetto della struttura qualche giorno fa il terzo settore di Palazzo San Francesco aveva anche provveduto ad approvare il progetto definitivo per la ristrutturazione il riuso e la rifunzionalizzazione della vicina sala cinematografica comunale e torniamo a Campobasso dove per il secondo anno consecutivo la SEA SPA vince il premio Industrial Felix Italia competente riconoscimento rivolto alle migliori imprese nazionali intanto la percentuale di raccolta differenziata ha superato a Campobasso il 50% Francesco Adamo Per il secondo anno consecutivo alla SEA è stato riconosciuto il premio Industrial Felix Italia competente un premio per le migliori imprese nazionali performanti a livello gestionale affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili questa mattina alla conferenza stampa nella sede SEA di Campobasso Industria Felix è un premio che va a validare il lavoro e il percorso espletato in termini di investimenti e di certezza nei pagamenti in poche parole di solidità finanziaria è evidente che è stato analizzato il bilancio del due anni precedenti perché ancora non chiudiamo il 2023 e in funzione di questo è stato premiata in quanto appartenente alle società pubbliche con rating di bilancio positivi dunque noi abbiamo concluso il sistema di raccolta porta a porta nell'area centrale dobbiamo completare ancora con le ecostazioni nell'area murattiana pensiamo di completare nel 2024 percentuali di raccolta differenziata che ormai supera il 50% città presa con una percentuale bassissima di raccolta differenziata che oggi sfiora il 55% quindi cominciano ad essere numeri normalissimi e lo vedono anche i risultati si vedono anche nelle classifiche nazionali dove Campobasso si attesta come città tendente al medio alto e questo è un fatto positivo e chiaramente va ringraziata la cittadinanza la grandissima maggioranza della cittadinanza che collabora tutti i giorni con il corretto conferimento certo se tutti facessero veramente tutti la loro parte diciamo in un corretto conferimento potremmo lavorare ancora meglio ma questo è un obiettivo che chiaramente è di medio o lungo termine e sperando che ci arriveremo da qui a qualche tempo Cronaca vigilia di Natale di lavoro per i vigili del fuoco di Sernia impegnati nella messa in sicurezza del tetto del campanile della bazia di Castel San Vincenzo il servizio di Cristian Ciarlante Vigilia di Natale a lavoro per i vigili del fuoco di Sernia impegnati nella messa in sicurezza del tetto del campanile della bazia di Castel San Vincenzo intervento resosi necessario a caso delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi infatti a caso del forte vento alcune tegole erano cadute o sono state rese pericolanti i vigili con l'autoscala in dotazione di 37 metri sono riusciti ad arrivare alla sommità del campanile e ad eseguire in sicurezza l'intervento le visite dei turisti e le attività delle monache che vivono nella bazia sono proseguite regolarmente un successo sorprendente per il sindaco di Forlì del Sannio Sergio Lerza la seconda edizione della Natività di Cristo proposta a centinaia di persone nel giorno di Santo Stefano meriti da scrivere ai volontari della Proloco di Forlì del Sannio che a distanza di sei anni hanno riproposto la manifestazione il servizio di Fabrizio Fusco L'omaggio solenne ai primi attimi di vita del Messia è tornato in scena a Forlì del Sannio con le identiche suggestioni di sei anni fa la Proloco del Burguesernino ha replicato il successo della prima edizione della Natività di Gesù proponendo un nuovo itinerario fra i vicoli della parte alta del paese ad arricchire la scenografia le figure della tradizione presepistica della Notte dei tempi Noi con il nuovo direttivo ci siamo insediati a giugno siamo un gruppo di ragazzi di circa 20 anni e appunto ci tenevamo alla realizzazione di questa manifestazione perché appunto il successo del 2017 è stato tanto e vorremmo appunto che questo sia un appuntamento fisso per gli anni a seguire Cento comparse complessivamente in scena raffiguranti mestieranti e mercanti soldati romani sommi sacerdoti e remaggi ambiti cusciti a mano con maestria dalle donne forlivesi motivate a rendere verosimile la piccola Betlemme di 2023 anni fa organizzazione costata tempo impegno ai volontari della Proloco pur di veicolare le presenze e far conoscere bellezze e peculiarità di questo bell'angolo del Morise è da quest'estate che ci stiamo impegnando per promuovere le tradizioni del nostro territorio e per attirare quante più persone possibili è una soddisfazione per un sindaco in un paese tutto pronto a collaborare per una manifestazione che ripeto ha richiamato tantissima gente devo dico la verità forse molto molto più di quello che era l'attesa io ringrazio la Proloco perché sta facendo tante attività e sta insieme all'amministrazione stiamo collaborando nel modo migliore per riportare per portare gente a Forri e vedo che si hanno alcuni successi e chiudiamo nel ricordare a tutti i telespettatori l'appuntamento di questa sera con Live Today di Pietro Tonti l'argomento su cui verterà la puntata è il 60esimo anniversario dell'istituzione della regione Molise avremo come ospite il presidente del consiglio regionale Quintino Pallante che parlerà della visita del presidente Mattarella in Molise nell'occasione delle manifestazioni ufficiali per il 60ennale avremo lo storico Antonio Leone e anche il sottoscritto che farà un po' di domande grazie a voi tutti per l'ascolto e l'attenzione grazie ai colleghi abruzzesi della QTV a cui restituisco la linea tra poco vanno in onda con il loro telegiornale grazie a tutti buongiorno grazie a tutti grazie a tutti